Buonasera a tutti. Ciao, sono Maria Lucevilla di Rete Informatica Lavoro e vi do il benvenuto a questa nuova sessione, un nuovo appuntamento, sempre organizzato da Rete Informatica Lavoro e dalla sua Academy, oggi dedicato a HTML5. Mi sentite correttamente? Intanto vi saluto. Ciao a chi mi scrive in chat, è un piacere rivedervi, quindi facciamo sempre queste prove tecniche, mi spiace ma preferisco sempre essere sicura. Buonasera a tutti. Dunque, da stasera quindi dicevamo parleremo di HTML5, la più recente evoluzione del linguaggio HTML, argomento molto richiesto da voi ed è una skill molto ricercata dalle aziende. Oggi ho fatto una ricerca proprio sul nostro portale e più di 200 annunci hanno HTML5 tra le skill indispensabili, quindi è molto interessante. Qualche informazione sul webinar, per chi non ci conosce e perché è la prima volta, hanno una durata di un'ora, nella parte finale il docente risponderà alle vostre domande, per qualsiasi altra richiesta utilizzate la chat, sarò a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande. Vi consigliamo ovviamente di seguire tutti i webinar in diretta, uno perché l'interattività non ha paragoni con un video registrato e secondo perché avrete un docente a disposizione, anche se per poco tempo può essere utile per fugare ogni vostro dubbio e vostra curiosità. Quindi io vi consiglio sempre di pronotare tutti i webinar insieme, quindi in che modo vi condivido la landing page che avete utilizzato per iscriversi, per iscrivervi a questo primo webinar. Se aprite il link troverete l'elenco delle date, voi potete selezionare anche le date future e potete direttamente iscrivervi ai prossimi appuntamenti. È molto semplice, tanti lo fanno già, quindi ve lo consiglio. Dunque, per finire e quindi per lasciare spazio al docente e alla lezione di oggi, vi informo che tutti i webinar, come sempre, verranno caricati il giorno dopo la live, quindi già da domani mattina troverete questa registrazione. I PDF utilizzati nelle lezioni solitamente li carichiamo nella descrizione del primo video, quindi li troverete lì. Quindi vi condivido anche il canale YouTube, il nostro canale, perfetto. Cosa ho schiacciato? Aspettate. Ok, perfetto, sono tornata. Ottimo e lascio la parola quindi, finita tutta questa parte burocratica, parliamo finalmente di informatica e codice con Ugo Vettori, sviluppatore web e nostro docente, che vi seguirà questa sera. Ugo? Buonasera a tutti. Buonasera. Io ho già detto tutto quello che dovevo dire, quindi io lascerei la parola a te e auguro buon webinar a tutti. Ci vediamo più tardi. Grazie Maria Lucia, dopo. Allora, condividiamo lo schermo e come al solito, e come al solito anche con un po' di difficoltà, ma ormai ci ho fatto il calo, come al solito andiamo all'occhiata alle consuete slide introduttive. Allora, ovviamente, il titolo è quello che è, è utile sottolinearlo. Vediamo quali sono gli argomenti, facciamo una panoramica su HTML5 e vediamo quali sono gli argomenti che andremo nei successivi incontri a evidenziare. Dunque, vabbè, l'HTML, immagino che è uno dei linguaggi, anzi, è uno dei linguaggi che ha contribuito, che è nato insieme sostanzialmente al World Wide Web, nato nel lontano, diciamo così, negli anni 90, e sono le cose esattamente dell'anno giusto, 94-95, giù di lì, prima del 2000, insomma, metà 90, e ovviamente è nato insieme al Web, cioè nel momento in cui sono nati, è nato la possibilità di, appunto, di comunicare mediante questa meravigliosa rete, ecco che, insieme a altre tecnologie, è spuntata fuori, anzi, è spuntata fuori qualcuno ha avuto la brillante idea di cominciare a ragionare su come creare dei documenti visibili appunto, attraverso il Web. E, appunto, questo è il linguaggio che è nato in quell'occasione, l'HTML, è un linguaggio di markup, cioè è un linguaggio che sostanzialmente etichetta, se possiamo usare questo termine, etichetta parti del documento, scopo è quello, ovviamente, di visualizzare i documenti, parte del documento con delle etichette che ne caratterizzano, non li descrivono al browser, che cosa, il tipo di elemento che rappresenta e i dati che rappresenta agli occhi del browser. Il browser leggerà, anzi, il termine tecnico e parserà, parser, effetturà il parsing di, l'analisi, insomma, del codice HTML, ogni volta che incontra un tag, lo interpreta correttamente, se no, quindi è un lettore appunto dell'HTML e renderizza, quindi, renderizza nella nostra pagina web il risultato della sua analisi. E quindi, se il nostro markup o la nostra etichetta, o come si usa, anzi, un altro termine tecnico, e il nostro tag, che sta appunto per etichetta, indica che quel pezzo di codice contiene un testo, ecco che il browser renderizzerà il testo nella nostra pagina web. Se invece quel pezzo di codice, cioè quel tag, descrive un brano del documento, un brano del testo, perché poi HTML è un documento testuale che viene appunto interpretato, analizzato e renderizzato dal browser, se invece questo tag, questa etichetta, questo markup, indica che c'è una porzione del documento che deve rappresentare un'immagine, ecco che il parser, appunto, l'interpret, diciamo così, l'analizzatore del nostro browser, renderizzerà all'interno della pagina web un'immagine e via di questo passo. Ovviamente avremo modo di conoscere, alcuni di voi sicuramente, quasi tutti immagino, se non tutti conosceranno già, come dire, il minimo indispensabile dell'HTML. Per chi non lo conosce, facciamo una breve panoramica su questi concetti e poi procediamo. Diciamo, è nato nel 95, 94-95, ha avuto varie versioni, di cui faremo una brevissima cronologia dopo, ed è giunto negli anni, prima del 2010, una ventina d'anni dopo, insomma, non mi ricordo se è nel 2005, 2004, più neanche lì, è nata l'idea, per vari motivi, che magari affronteremo dopo brevemente, per vari motivi è stato deciso di creare questa versione HTML5, che è l'ultima attualmente funzionante, diciamo così, che fornisce tutto, che ha aggiunto tutta una serie di nuovi elementi, intendiamo con nuovi elementi tag, nodi, cioè markup, o etichette, che vogliono dire si voglia, che quindi arricchiscono il vocabolario, diciamo così, del linguaggio HTML, in modo tale da poter meglio specificare, come vedremo, esattamente che cosa contiene quel brano di codice HTML rispetto a un altro codice HTML, un altro brano etichettato in un altro modo, con un altro significato, con un altro contenuto. Vedremo. Oltre a ciò, HTML5 ha aggiunto anche tutta una serie di nuove API, o ha esteso delle API, in alcuni casi già presenti, le ampliate, che forniscono tutta una serie di funzionalità tipiche, oramai, stiamo parlando del 2004, oggi siamo al 2005, siamo al 2021, quindi ne sono passati anche quasi 20 anni da allora, e allora, diciamo così, quello che oggi ci sembra ovvio, nel 2004 non lo era, per quanto riguarda l'HTML, ovviamente, e l'HTML5 quindi aggiungeva, ha aggiunto in quegli anni, tutta una serie di strumenti, funzionalità, grazie alle quali, come dire, oggi abbiamo il siti web che abbiamo, nel senso che abbiamo la possibilità di visualizzare video senza usare flash, per chi lo conosce, mentre fino ad allora bisogna usare il plugin flash, con tutti i problemi annessi e connessi, che chi conosce un po' la storia di flash avrà sentito parlare. Se vogliamo ascoltare in audio, non abbiamo bisogno neanche di un plugin, c'è già un tag e relative API HTML5, che ci permette di tirar su, anche con poche righe di codice, un player audio o video, ovviamente, visto che ho fatto questi due esempi, con poche righe di codice, con già un minimo di interfaccia utente in grado, che permette all'utente appunto di, non so, eseguire il video, stopparlo, metterlo in pausa, ritornare, eccetera, eccetera. Cose che prima, prima dell'HTML5, non era possibile fare, e sì, con l'HTML, ovviamente, ma era possibile fare appoggiandosi a strumenti aggiuntivi, plugin, uno, il più famoso ovviamente è flash, ma c'era poi tutta una pletora di plugin per vedere i video, per ascoltare audio, eccetera, eccetera, e fare cose che oggi invece ci servono, si possono fare tranquillamente con l'HTML e che vedremo appunto in corso dopo. Qui, appunto, vediamo un po' quali sono gli elementi di cui parlerei, che ho pensato di sottolineare. Vabbè, breve storia dell'HTML5, in parte l'ho già fatta, adesso lo approfondiamo brevemente, e poi quali sono i concetti, diciamo così, più interessanti, a mio avviso, e non solo mio, riguardanti appunto le novità introdotte a suo tempo da HTML5. Cioè, in particolare, che cosa? Alcuni concetti relativi al valore, al significato semantico delle pagine HTML, poi vedremo di cosa si tratta, in particolare ci approfondiremo un po' la conoscenza del content model, dei tag semantici, facendo una panoramica di questi tag, e dei microformati che sono un altro modo per arricchire i documenti HTML con informazioni aggiuntive che possono essere utili, vedremo in quali casi. E poi una bella parte dedicata, anche se è un unico capitolo, il quinto, ma è bello corposo, dedicato appunto a queste API web application, cioè quelle applicazioni che, come dicevo prima, ci permettono di facilmente, usando solo HTML e, in alcuni casi, uno spruzzatino di JavaScript, in altri casi numerose spruzzatine di JavaScript, ci permettono di, comunque, di usare tecnologie standard, HTML, CSS e JavaScript, per, come dicevo prima, per esempio, tirar su un player video, piuttosto che audio, o altre cose di cui parleremo. Storia, dicevamo, in parte l'ho già fatta, l'HTML è qui un po' più organizzata dal punto di vista anche di, da qualche spunto, anche su alcuni acronimi, concetti, che magari non tutti sono noti, che, chi ha voglia, può approfondire, andatosi a cercare su internet. Dunque, l'HTML, diciamo quello degli anni 90, è stato studiato, è nato, come dire, come figlio, diciamo così, di un linguaggio più generico che, appunto, come notate, l'SGML, cioè un linguaggio di markup standard, generico o generalizzato, che è distribibile, cioè una serie di concetti e pratiche, che quindi indirizzavano, rappresentavano uno standard per creare, in base a questa struttura, questo schema astratto, consente tuttora di creare linguaggi, appunto, di markup, di cui HTML è uno solo, ci sono tantissimi linguaggi di markup, che non si chiameranno più HTML, non si chiamano HTML, ma si chiameranno, per esempio, guarda caso, XHTML, piuttosto che XML, che magari qualcuno di voi l'ha già sentito nominare, piuttosto che MATML, cioè linguaggi sempre markup, markup language, però specifici, per descrivere, sempre mediante tag, etichette, chiamatili come volete, chiamiamoli come vogliamo, diversi tipi di informazione, se con hypertest markup language descrivo un documento ipertestuale, una pagina web, in termini semplici, con, per esempio, MATML, posso usare dei tag che descrivano delle funzioni matematiche, appunto, da qui MAT, delle formule matematiche, eccetera, eccetera, usando appunto questa notazione a etichette, a nodi, a tag, a markup. Quindi dicevamo l'HTML è uno dei linguaggi, o possiamo anche chiamarlo un dialetto di questo mega linguaggio, appunto, SGML, HTML era nato in queste condizioni e quindi, essendo figlio, diciamo così, o dovendo rispettare le regole stabilite a livello generale dall'SGML, diciamo, era un po', rappresentava un linguaggio minore, diciamo così, da questo punto di vista, cioè che dipendeva dalle specifiche che di volta in volta venivano aggiornate, alle quali l'HTML doveva adeguarsi. Un momento successivo, una pietra miliare, diciamo così, se vogliamo usare questo termine, della storia dell'HTML rappresentato dall'XHTML, che anche qui rappresenta una sorta di indipendenza del linguaggio HTML, cioè in questo caso era una sottodipendenza rispetto a un altro linguaggio, dicevo prima, l'XML, l'extended macro language, che a sua volta è una grammatica SGML, quindi a cascata abbiamo, che avevamo, e abbiamo tuttora volendo, che da SGML, dicevamo, posso nascere, grazie a SGML si possono avere delle regole per creare dei linguaggi di macup, di annotazione, per svariati tipi di oggetti da rappresentare, documenti, matematica, disegni, grafiche, eccetera, l'XML è a sua volta appunto uno di questi linguaggi nati, che ereditano le caratteristiche dell'SGML e quindi si è creato un collegamento diretto dell'HTML che aveva una stretta dipendenza dall'XML, non è cambiato molto rispetto a prima, nel senso che comunque anche in questo caso l'XML per essere conforme, scusate, l'HTML per essere conforme alle regole dell'XML doveva seguirne le regole, diciamo così, per farla breve. Ogni volta che l'XML veniva aggiornato, che le regole dell'XML venivano aggiornate e succede tuttora, l'HTML doveva a sua volta aggiornare a se stesso i propri nodi, il modo in cui era costruito il documento, eccetera, eccetera, le regole di costruzione di un documento HTML in modo da essere appunto come si dice conforme appunto al linguaggio dal quale, il linguaggio genitore dal quale derivava. Questo aveva una serie di problematiche, cioè che derivano dal fatto che tutti questi standard ovviamente hanno abbastanza ovviamente, è comprensibile abbastanza ovviamente che hanno un ente o più enti che, come dire, discutono, elaborano, studiano, decidono come far evolvere per esempio l'XML, come aggiornarlo, quali regole vanno bene, si possono migliorare, quali regole non vanno bene, dobbiamo modificare, quali regole possiamo aggiungere, quali regole sono obsolete, eccetera, eccetera. Tutto questo iter, come dire, decisionale, c'era tutto un iter, le proposte, le discussioni, un po' come, diciamo così, nei parlamenti più o meno efficienti, c'era una fase di proposte, poi c'era una fase di discussione, poi c'era una fase di votazione, passavano, diciamo così, e poi c'era, come dire, l'effettiva implementazione di queste regole, chiamiamole le leggi del Parlamento e, insomma, se vogliamo continuare a fare paragoni con i parlamenti meno efficienti, ecco che dall'idea, dalle proposte all'applicazione delle leggi passavano magari due o tre anni, quattro o cinque. Tutto ciò, mentre il web andava, correva veloce, c'erano tante novità, c'erano tecnologie nuove, modi di possibilità nuove, di sviluppare le pagine HTML con, aggiungendo appunto, che so, caratteristiche tipo, tornare ad esempio di prima, che ci permette di mantenerci sul vago, senza, senza anni dettagli, ma dandovi un senso, quindi per caso se, ipotizzando che il tag o la regola con la quale si voleva proporre in quegli anni di creare un modo di visualizzare un video usando XHTML, magari sarebbero passati 5-6 anni prima che si fossero riusciti a mettersi tutti d'accordo e a implementare la cosa. E questo ovviamente non andava bene, il mercato occorre, aziende come Microsoft, Adobe, piuttosto che Google, eccetera, eccetera, o Apple ovviamente, che cosa hanno fatto a un certo punto? Hanno detto, va bene, sentite, noi di tutta questa burocrazia, la faccio semplice e forse con conquistica, non abbiamo tempo di aspettare tutto questo iter decisionale, hanno creato un consorzio e hanno deciso di lavorare speditamente a una versione dell'HTML sganciata da queste dipendenze, dall'SGML e dall'XML, in modo tale che si potesse, tra l'altro, rapidamente introdurre nuove regole, nuovi tag che facevano quello di cui abbiamo parlato prima, con quattro righe di codice, metto su un video player. Quindi questo consorzio ha dato vita all'HTML 5, dicevamo circa, una quindicina, prima del 2010, 2005, eccetera, eccetera. Da allora ovviamente questo cosa ha consentito di sveltire, come dire, lo sviluppo, di progredire l'evoluzione dell'HTML 5, ovviamente, che è diventata una sorta di linguaggio a sé che va avanti per la sua strada, nell'attesa forse un giorno che, come dire, le pastorie diciamo burocratiche, che spesso, più che pastorie, sono anche delle necessità di mettere d'accordo più teste, che giustamente ragionano ognuno a modo suo, detto ciò, diciamo, con l'HTML 5 si è deciso di dare un taglio con, diciamola così, in poche parole, con l'iter decisionale un po' troppo, decisamente, a volte troppo lungo, e si è deciso di, ok, ci mettiamo insieme noi, Apple, Google, eccetera, eccetera, e decidiamo, più in fretta e con meno teste, cosa è utile in questo momento aggiungere all'HTML e come magari farlo evolvere nel tempo. finita questa storia, dicevamo, quali sono gli elementi che potete approfondire, ce n'è siti interi dedicati a questa storia, ovviamente con dettagli più precisi e con spiegazioni più complete della mia. L'HTML, abbiamo detto, 5, a un certo punto ha introdotto, che cosa? Due caratteristiche principali, le ho già introdotte in parte prima. La possibilità di utilizzare un approccio semantico, di cui parleremo nella creazione di pagina web, è appunto un set di API, tipo video, audio, eccetera, eccetera, l'altro che vedremo, per realizzare applicazioni web e aggiungerei più moderne di quelle che ci permettevano di realizzare HTML o XHTML. Vediamo la prima parte, cioè cominciamo a fare una panoramica sul primo blocco delle novità introdotte all'HTML, cioè l'approccio semantico. Che cosa si intende con approccio semantico innanzitutto? Cioè la possibilità, chi conosce un po' l'HTML, anzi cominciamo a vedere un po' di codice giusto per, quindi introduciamo il content model, vediamo un po' qual è la struttura base di un documento HTML, non stiamo a guardare i commenti che tanto non ci interessa. La struttura base di un HTML è questa, un documento, una descrizione di documento, poi ritorneremo magari a sottolineare alcuni aspetti di questi tag, un altro tag che definisce che il documento è HTML e che il linguaggio per esempio è l'italiano e non l'inglese è quello che è, e poi abbiamo il primo blocco strutturale storico di un documento HTML che esiste già dagli anni 90 e che perdura oggi. Cioè il blocco HEAD, qui ci sono, sta per intestazione, un po' come l'intestazione di una lettera o di un documento. L'intestazione descrive un po' le caratteristiche del documento, tra cui, qui ne ho messo solo uno, ma ce ne sono una serie di cui parleremo, tra cui appunto il titolo, tipico elemento dell'intestazione del documento, di cosa appara questo documento, eccoti il titolo e insomma già da questo si capisce di cosa appara il documento. Dopo questo blocco HEAD che contiene oltre al title, può contenere oltre al title, molti altri tag, tra cui molti tag dedicati all'ottimizzazione presso i motori di ricerca e quando parlo di motori di ricerca intendo poi sostanzialmente Google, di cui magari faremo qualche accenno in seguito, diciamo, oltre a questo tag HEAD che contiene una serie quindi di meta informazioni, informazioni introduttive o utili appunto ai motori di ricerca, magari vedremo come, c'è poi la seconda sezione, il secondo blocco, che è il blocco body, corpo del documento, cioè quella parte del documento HTML che contiene effettivamente gli elementi, diciamo così, per fare brevi i testi, le immagini, i link, i video se sono presenti, gli audio eccetera eccetera che l'utente vede nella pagina web. Togliamo, lasciamo perdere tutta questa roba qui che non ci interessa, poi all'interno del body quindi abbiamo che cosa, una serie di tag, di etichette, di markup appunto, o nodi, come si usa anche dire nodi HTML, che descrivono appunto, come dire, l'aspetto, sottolineo l'aspetto del contenuto, quindi H1 significa che il testo contenuto tra l'etichetta H1 e l'etichetta slash H1 che chiude questo markup, questo primo markup, contiene un testo HTML che verrà visualizzato come titolo di primo livello, header sta per header o heading, titolo insomma, in testazione. Ci sono vari livelli di titolo, l'H1 è il più grande, viene visualizzato più grande, l'H2 viene visualizzato un po' più piccolo, fino all'H6 o 7 non ricordo, che man mano riducono le dimensioni, quindi rappresentano anche visivamente come dire, una gerarchia, titolo principale, per esempio in questo caso, myHTML, nell'H2 cosa potrò mettere? Un sottotitolo, appunto perché è un elemento più piccolo e meno importante, diciamo così, dal punto di vista della gerarchia, del titolo H1 che è il primo titolo principale. Se andiamo a vedere brevemente che cosa succede nel browser, eccolo qui, vedete, senza dover far nulla di che, myHTML viene stampato in grande, sottotitolo viene stampato in piccolo, H2. Se mettessi un H3 e lo possiamo fare, ovviamente, H3, mia sotto sottotitolo, scusate la stupidaggine, ma facciamo prima, mia sotto sottotitolo, vedete che l'H3 è più piccolo dell'H2 che è più piccolo dell'H1, quindi sostanzialmente questi nodi HTML, questi tag, questi markup, queste etichette, descrivono come il contenuto, cioè il testo, deve essere visualizzato, l'aspetto, così come il paragrafo, ovviamente, essendo, come dire, deputato a contenere il testo lungo, più lungo sicuramente di quello che scrivo io in genere, ma insomma, quello che è un classico paragrafo di un libro, di una rivista, eccetera, eccetera, di un testo su questi media, a sua volta ha una sua dimensione predefinita che lo differenzia visivamente, appunto, dagli elementi precedenti. L'ultimo elemento che guardiamo è un'altra etichetta che mi permette di includere, appunto, dentro il mio documento un'immagine. Torneremo poi su queste cose che magari, anzi, che molto probabilmente sono ovvie per il più, ma di sfuggita li vedremo e ci concentriamo ovviamente su cose che presumo siano meno ovvie. Quindi, però, per tornare al discorso della semantica, che cosa mi dicono questi tag o questi markup o queste etichette HTML? Non mi dicono niente, cioè rappresentano che cosa? Solo una dimensione con la quale verrà visualizzato il titolo, il sottotitolo, il sottotitolo. Quindi descrivono solo l'aspetto, diciamo così, del mio contenuto, del mio testo. Ma non descrivono il significato, o non ci provano neanche, permettiamola così, non descrivono il significato, cioè la semantica, appunto, del mio documento o del contenuto di ognuno di questi tag. Quindi, aggiungere, come ha fatto l'HTML, dei tag di tipo semantico permette di usare, oltre a questi tag che stiamo vedendo e che continuiamo a vedere in altre occasioni, standard, storici, diciamo così, H1, paragrafo, H2, eccetera, eccetera, consente, ha creato una serie di nuovi tag che aggiungono un significato semantico, cioè che aggiungono significato al contenuto. Quindi, quando io, quando il browser legge questo documento, oltre a capire come deve essere visualizzato quel nodo HTML e quel testo, diciamo così, in base alle dimensioni, come in questo caso, è anche in grado di estrarre dai tag nuovi, come dire, l'indicazione sul significato che può avere il contenuto di testo, o l'immagine, o il video, appunto, contenuto in quel tag. Questo è utile, come vedremo, soprattutto ai motori di ricerca, perché è un motori di ricerca che è in grado di interpretare questi tag semantici, ne estrae, per così dire, anche un'informazione sul significato del testo. Fermiamoci su un testo. Se io ho un sito che parla di cinema, potrei scrivere titolo H1, il mio film preferito, che so, H2, regia D, H3, non lo so cosa mi viene in mente, e poi nel paragrafo potrei scrivere, che so, la sintesi del film, appunto, parlare del film, degli attori, eccetera, eccetera, ma tutto ciò, senza tag semantici, come dire, non avrebbe un significato per i motori di ricerca. Se invece io ho dei tag semantici che mi permettono di aggiungere indicazioni sui contenuti, e se, come vedremo, il motore di ricerca o qualche altro software, sottolineo qualche altro software, è in grado di estrarre dal mio testo dei significati, aggiunti, appunto, con questi nuovi tag, ecco che la mia pagina è più ricca di significato, il motore di ricerca capisce meglio di che cosa si parla la mia pagina o il mio intero sito, estraendo queste informazioni, e, in questo modo, è anche meglio organizzato, ha più dati, per meglio, come dire, rispondere alle ricerche degli utenti. Quando vado su Google, quindi, se scrivo film, e se il mio motore di ricerca è in grado di estrarre dai tag semantici del mio sito che parla di film, maggiore informazione sul tema film, ecco che la mia pagina è una pagina ricca di contenuti che parlano di film, magari non del film che interessa l'utente che sta facendo ricerca, ma sicuramente, come dire, è un primo passo verso una serie di informazioni che semplificano il lavoro dei motori di ricerca e soddisfano meglio le esigenze di chi fa le ricerche sul motore di ricerca. Analogamente, dicevo prima, oltre ai motori di ricerca, altri software possono essere in grado di leggere questi tag e interpretare questi tag di significato, con valori significativi. Per esempio, un classico esempio sono gli screen reader, cioè quei software che leggono lo schermo per coloro i quali hanno problemi di vista o hanno problemi che non gli consentono di leggere in maniera semplice e veloce il testo di un documento e ovviamente anche di un documento web. Ora, se uno screen reader è in grado di leggere, come abbiamo detto prima, può fare un motore di ricerca, delle informazioni che aggiungono significato al documento, opportunamente programmato, sarà anche in grado di fornire un servizio migliore all'utente che utilizza questo tipo di software. E potete immaginare, in altri ambiti, altri software che estragono informazioni utili per fornire un risultato più completo, anche dal punto di vista non solo della visualizzazione, più grande, più piccolo, ancora più piccolo, ma anche che diavolo contiene questo testo, mi interessa, sì, non mi interessa. Senza quindi dover leggere, per esempio, tutto il paragrafo che parla di questo benedetto film, se il mio software estrae gli elementi più significativi di questo lungo testo del mio paragrafo, faccio in fretta, con questo software, ad avere le indicazioni che mi servono in quanto utente e a decidere se quel contenuto contiene i significati che mi interessano oppure no. E quindi è un servizio. Io perdo meno tempo di una lettura del documento, ottengo subito le informazioni indicative sul significato presente, sui concetti, sulla semantica presente in quel documento, in quel paragrafo, e decido se è il caso o meno di approfondire. Questo per fare un esempio sul concetto di semantica. Ora, torniamo al nostro slide, è appunto uno, come dire, una delle sezioni, diciamo così, degli elementi che fanno parte di questa area dedicata alla semantica, è l'area definita, secondo le specifiche, dell'HTML5, il content model, un modello dei contenuti. Possiamo tradurlo tranquillamente così. Vedete, se leggiamo, una serie di tag attinenti al proprio contenuto, un po' quello che vi ho detto prima. Quello che vi ho detto prima è un discorso generale sulla semantica. Poi, i tag di tipo semantico, cioè che aggiungono significato ai tag che contengono il testo, o l'immagine, o il video, sono a loro volta divisi in vari gruppi, categorie. Per esempio, il content model è una macro-categoria, a sua volta, che rappresenta, contiene, organizza, una serie di categorie semantiche, diciamo così, che sono queste, metadata content, che, come dire, sono elementi, appunto, meta-informazioni, cioè informazioni superiori, diciamo così, che danno delle informazioni generiche, generali, che definiscono il contesto, diciamo così, dell'argomento, ovviamente, di significato, di cui tratta il nostro documento HTML. poi abbiamo, poi li vedremo degli esempi concreti, ovviamente, il section in content, qui, sono una serie di tag, che ci permettono di dividere il contenuto, in base a alcune caratteristiche ben precise, appunto, caratteristiche semantiche ben precise, quindi è un modo di dividere, come dire, il significato dei vari tag semantici, come vedremo. Abbiamo poi il leading content, cioè, anche qui, nodi HTML, markup, semantici, che dedicati ai titoli, alle intestazioni. Altri tipi di categorie content model, della macro-categoria content model, è il form associated content, cioè tutti quei componenti, che fanno parte dei form, tra l'altro, anticipo, che l'HTML5 ha aggiunto numerosissimi tag, o nodi, o markup, all'armamentario, che era un po' misero a suo tempo, dei form. Anche qui avremo modo di vedere, quali sono questi nuovi tag, che ci permettono di creare form, molto più ricchi, non solo di contenuti, ma anche di interattività conduttente. Abbiamo poi la categoria dell'embedded content, cioè tutti quei nodi HTML, grazie ai quali posso incorporare elementi nella pagina, video, audio, PDF, eccetera, eccetera, che a volte si intersecano con la categoria degli interactive content, cioè nodi HTML, e prassi, pratiche, grazie ai quali possiamo creare pezzi, brani HTML, dalle caratteristiche interattive. Un classico esempio, di una cosa interessante introdotta, ed è la più, come dire, immediatamente percepibile come interessante, è quella, per esempio, derivata da quello che succede a suo tempo, diciamo così, quando è stato introdotto l'HTML5, in HTML5, non era possibile fare cose che si potevano, si possono fare tutt'ora, ovviamente, nelle applicazioni desktop, cioè il classico drag and drop, prendo un file dal desktop, lo trascino nella mia applicazione, quello che si fa ora con Google Drive, o anche con Google Gmail, invece di cliccare su un pulsante, per andare a cercare il file da allegare alla mail, nel mio file system, selezionarlo, dare ok, e caricarlo quindi nella mail, come allegato, ora è possibile, aprire la cartella dove c'è il file, trascinare l'icona del file, drag, e rilasciarla troppo, nell'area prevista, da Gmail, o da software analoghi, grazie, e questo mi permette appunto, di velocizzare, questo tipo di operazione, e altre analoghe, appunto, mediante un semplice trascina e lascia, questo non era possibile farlo con l'HTML, prima dell'HTML 5, bisognava di nuovo affidarsi a strumenti come Flash, ora è molto più semplice, appunto, grazie all'HTML, avere questo tipo di comportamento interattivo, ci sono dei tag appositi, un po' di JavaScript, grazie ai quali facciamo il nostro drag and drop, nel nostro documento HTML, in maniera semplice, e standardizzata, cioè HTML, HTML, scusate, JavaScript e CSS, quindi questo è un esempio di elemento interattivo, poi abbiamo il phrasing content, insomma, qua sono tutte le caratteristiche, il phrasing sta per, come dire, il fraseggio, diciamo così, dei contenuti, tutti i tag, tag, HTML, che mi permettono, che so, di usare, di evidenziare, che so, un pezzo di testo, dicendo, questo è un'abbreviazione, quindi dare un significato semantico, dicendo, questo pezzo di testo è un'abbreviazione, questo pezzo di testo è tradotto dall'inglese, aggiungere, appunto, delle informazioni, che, oltre a essere lette, ci danno, appunto, informazioni riguardo al fatto che, di qual è il significato di quel pezzo di testo, è un'abbreviazione, o deriva dal latino, cose che magari vediamo sul sito, quando facciamo, mi viene in mente questo, ma è un esempio come un altro, quando magari facciamo del sito su una parola, di cui cerchiamo i sinonimi, andiamo sul sito tipicamente, tre cani, che ne so, e lì vedete la definizione del termine, della parola, poi abbre due punto, di questo, eccetera, eccetera, qui noi possiamo aggiungere, questi taggetti piccolini, e specificare nel dettaglio, che significato ha quella parola, che ho delimitato, con i miei due tag, abbre, che sta, appunto, per abbreviazione, e vedremo altri esempi, anche di questo, tag semantici, eccoli qua, qui c'è, appunto, già, buttiamo già un occhio, quali sono questi tag semantici, per esempio, nella sezione, content model, sectioning content, torniamo un po' indietro, heading content, eccetera, eccetera, abbiamo per esempio, guarda il caso, section, edge group, cioè gruppo di header, header, footer, cioè il piede del mio documento, e side, cioè una sezione del sito, laterale, diciamo così, non di primo livello, comunque non centrale, appunto, questo significa, non che è side, non centrale, non significa che è laterale, nel senso che lo vedo adesso a sinistra, non è quello il punto, significa che con questo aside, per farvi un esempio, che punti verso la semanticità, diciamo così, non è un argomento, non contiene un argomento, cioè del testo, fondamentale rispetto al tema del documento stesso, è un tema laterale, a lato, quindi ha un significato, appunto, collaterale, non principale, rispetto dal punto di vista semantico. Poi, che questo, significhi anche che, essendo un documento, un testo che contiene informazioni, delle note, che ne so, a lato, note a lato, a margine, come si dice nei libri, note a margine, sul testo principale, poi il fatto che poi, questo tag, abbia anche, venga spesso messo a destra, dal punto di vista, dell'impaginazione, quindi, non è, è secondario, non è, non è semantica, quella è, grafica. Invece, con iSize, stiamo proprio dicendo, al, al, al motore di cerca, piuttosto che, allo screen reader, questo è una parte del documento, eh, non di primaria importanza. Prima leggiti la parte importante, poi, eventualmente, a lato, ti leggi questa informazione aggiuntiva. altri tag semantici, del punto di vista della struttura, il tag nav, che ci permette di definire, appunto, un menu di navigazione, come si intuisce, e il tag article, che ci permette, per esempio, di definire, all'interno del documento, con molto contenuti, qui, mi viene d'aiuto, mi viene d'aiuto, un sito, per esempio, l'esempio di un sito, giornal, di notizie, il sole 24 ore, piuttosto che, riuscite voi, il manifesto, vedete voi dove andare, mi permette di, di, dividere, semanticamente, tutti i miei articoli, con un tag, article, che, agli occhi del, motore di cerca, o dello screen reader, o di un altro software, che mi sono inventato io, che legge, cerca solo gli articoli, che trattano un determinato argomento, nel mondo web, ecco che, grazie a article, io ho uno strumento, che mi permette di, scrivere un software, che spulcerà, il documento HTML, in questione, cercherà solo i tag article, e magari non cercherà i tag aside, o i tag footer, che sono, elementi secondari, spesso, che contengono informazioni, non di primo livello, ma punterà, sui nodi article, per cercare, all'interno di questi nodi article, il contenuto, degli articoli stessi, che sono, la materia, che contiene più, quindi il contenuto, che contengono più significati, mentre, appunto, le side, magari non mi interessa, il footer, con le dichiarazioni, di copyright, oppure, che ne so, altre informazioni, aggiuntive, oppure, clicca qui, per contattarci, quelle cose lì, non sono, importantissime, dal punto di vista semantico, e quindi, io posso creare un software, che appunto, va a cercare, solo i nodi, con caratteristiche semantiche, che mi interessano, che mi danno solo, sono dei filtri, grazie a quale, estraggo solo i dati, che mi interessano, poi, il software, una volta estratto, farà quello che deve fare, li elabora, li stampa, che ne so, li metto in un database, quello è secondario, valore semantico del contenuto, anche qui, ho la possibilità, di appunto, marcare, specialmente, nell'ambito, dei forma, usare dei tag, che mi permettono, di, che so, indicare, precisamente, cosa fa, cosa c'è in quel tag, per esempio, nel tag time, per fare esempio, più banale, poi alcuni di questi, li rivedremo, il tag time, è evidente, che a tutti, che mi conterrà, un'ora, una data, no? Quindi, di nuovo, se io sto spulciando, un documento, HTML5, e voglio sapere, quali sono gli articoli, più recenti, cosa farò? Il mio software, andrà a cercare, i tag article, e magari, se questi tag article, contengono, anche il tag time, potrò, fare una ricerca, solo sugli articoli, con data, successiva, a che so, a marzo, solo gli articoli, di marzo, vedete che, man mano che, ci sono questi, mettiamo insieme, questi tag, aggiungo, una serie di informazioni, strutturate, che, un software, è in grado di trovare, grazie appunto, a questi agganci, questi tag, e, con il codice necessario, estrae solo, quelle informazioni, che gli interessano, quegli articoli, che parlano di storia, solo, del periodo, indicato, dai tag time, quindi, solo di marzo, piuttosto che di, maggio, giugno, eccetera, eccetera, oppure, solo dell'anno 2021, e non dell'anno 2005, per esempio, grazie appunto, a un'informazione, incapsulata, in questo nodo time, nell'esempio di cui parliamo. Altri, elementi relativi alla semantica, sono i microformati, che ci permettono di, di nuovo, di aggiungere, altri tipi di, caratterizzazioni, di significato semantico, e tra questi, segnalerò in particolare, vedremo insieme, che poi sono abbastanza semplici, il nuovo nodo, anzi, il nuovo attributo, data, trattino, asterisco, e, per esempio, e poi, microdata, che, appunto, sono un altro strumento, per conferire, maggiore significati, maggiore significati, ai nostri documenti. Ebbè, qui c'è già un'anticipazione, sui microformati, va bene, poi lo vedremo più nel dettaglio, che cosa è il microformato, è uno strumento già, una tecnologia, un linguaggio, già utilizzato, da Google, e altri motori di ricerca, quindi questo è, è notevole, diciamo così, da questo punto di vista, per esempio, cosa fanno, i microformati, intanto c'è un vocabolario, standard, diciamo così, definito, sul sito, schema.org, andiamola a vedere, ma, velocemente, eccolo qui, che cosa fa, questo sito, schema.org, raggruppa, degli schemi, grazie alle quali possiamo categorizzare, appunto, diciamo, tutto quello che può interessarci, nel mio esempio, qui, cosa ho messo, per esempio, posso avere una categoria, eventi musicali, ovviamente tutto in inglese, eccolo qui, e questo è, come dire, la struttura, le proprietà, è un po' come una classe, di linguaggi, Java, piuttosto che TypeScript, piuttosto che PHP, è sostanzialmente, un'interfaccia, uno schema, una classe, una struttura, uno schema, direi meglio, visto che stiamo parlando di schema.org, in cui, ci sono le proprietà, che tipicamente, rappresentano, un evento musicale, musicale, per esempio, vediamo un po', il compositore, dell'evento musicale, cioè l'artista che ha composto le musiche, ipotizzando, ovviamente, non per forza, un evento musicale pop, ma, in questo caso, un evento musicale classico, ci sarà un direttore dell'orchestra, la durata del concerto, diciamo così, dell'evento musicale, la fine della data, insomma, prevista, che so, un concerto magari dura, che so, in alcuni casi, può avere, dura una settimana, o, capita tutti i giovedì di un mese, un po' come i nostri webinar, e quindi, ci sarà un inizio di la data, che so, il 13 maggio, inizia il concerto, su HTML5, o l'evento musicale, se volete preferire, e finirà, fra 4 giovedì, e quindi qui andiamo a mettere in data, quindi, vedete che c'è tutta una serie di informazioni, location, dove si terrà questo evento musicale, e via di questo passo, è uno schema, quindi, ci dà anche il tipo previsto, qui la descrizione, che ci serve a capire meglio, come e quando utilizzarlo, quindi, grazie a questo schema, già preimpostato, io posso aggiungere, queste informazioni, mediante appunto, questo tipo di micro informazioni, o micro formati, che si aggiungono, al documento HTML, e, per esempio, per restare in questo, restare qui, una pagina, web, HTML, in cui, presento, il concerto, di Pincopalla, posso aggiungere, questo schema, con tutte le informazioni, start date, end date, location, director, se c'è un direttore, eccetera, eccetera, in modo tale, che appunto, arricchisco di informazioni, la mia pagina HTML, ovviamente, Google, è in grado, di leggere, queste informazioni, e, se, spesso, ce le mette, dove? All'inizio, del risultato, della ricerca, proviamo a vedere, se siamo fortunati, andiamo su Google, Cosa possiamo cercare? Pippo Baudo, scusate, ma non viene a mettere altro, Pippo Baudo, beh, qui non c'è molto, cerchiamo Fedez, che è più, più, crescente, anche qui, non c'è granché, vabbè, qui non si vede, non avevamo modo di vederle, a volte, quando ci sono, appunto, questi micro data, questi micro formati aggiunti, oltre a vedere, che so, questo titolino qui, con il link, al sito, eccetera, c'è anche un riquadro, che non è un riquadro pubblicitario, come succede in altre occasioni, ma è un riquadro che contiene, appunto, la serie dei micro dati, che io ho inserito qua, data, location, eccetera, eccetera, quindi, aggiunge informazioni organizzate, a un semplice risultato della ricerca di Google, avremo modo di approfondirlo, per adesso, voglio darvi questa panoramica sulla questione, vabbè, poi vedremo quali sono attualmente i formati più utilizzati, o per meglio, gli linguaggi più utilizzati per organizzare i micro formati, noi ci soffermeremo soprattutto su micro data e schema org. Andiamo a vedere finalmente l'ultima parte, per certi versi la più interessante, specialmente per i programmatori, cioè l'API, con API si intende JavaScript, cioè una serie di strumenti, classi, oggetti, metodi, proprietà, grazie alle quali possiamo creare, appunto, applicazioni interattive, non solo più leggere, un file statico, con dei dati più o meno semanticizzati, arricchiti, ma creare appunto elementi programmatici, cioè, i più banali ovviamente, li ho già detti, video e audio, che già vengono proposti, i tag video, viene già proposto con la sua interfaccia, con il pulsante play, pause, stop, e noi possiamo aggiungere, mediante JavaScript, ulteriori funzionalità, queste di base, che vengono fornite così di default, e quindi arricchire, appunto, le funzionalità di un nostro video o audio player, o senza arricchirle, anche solo customizzarle, personalizzarle. Ci sono poi, come dire, c'è il tag, il markup canvas, e ovviamente tutto, sono tutti i tag associati a API JavaScript, con le quali manipolare questi nodi HTML, questi markup nuovi. Canvas che cosa fa? Rappresenta una tela, come si può tradurre dall'inglese, quindi è dedicata alla grafica bi- e tridimensionale, quindi grazie a JavaScript, e ad altri sistemi, altri linguaggi di descrizione, della grafica, posso creare, con linguaggio HTML, o linguaggi analoghi, per esempio l'SVG, eccolo qua, creare dei disegni della grafica, e magari anche interattiva, usando JavaScript. Dicevamo, altri tag, alcuni li ho già anticipati prima, matte, mi permette di usare, una serie di nodi HTML, che per descrivere, meglio descrivere, formule o sintassi, usare una sintassi di tipo matematica, come SVG, cui accennavo rispetto al Canvas, che mi permette di disegnare grafica vettoriale, cioè un logo, quindi non foto, o immagini fotorealistiche, ma i classici loghi, icone, insomma disegni, sostanzialmente, anche qui usando, quindi, un linguaggio markup, dedicato appunto, l'SVG markup language, diciamo così, e anche qui, API JavaScript, che ci permettono di, evolvere, creare cose un po' più complesse, e strutturate, rispetto alle basi, che ci forniscono i tag stessi. Altra categoria, quindi queste diciamo, sono raggruppate, come vedete, sono le API per il multimedia, video, audio, grafica, B o tridimensionale, e ci ho messo dentro anche matematica, anche se non è molto multimediale, ma insomma, è interessante. Poi l'altra sezione, quella dedicata invece, l'altra categoria di API, è quella più pertinente, alla realizzazione di applicazioni web, si intende applicazioni in cui l'utente, che so, salva in memoria dei dati, oppure è in grado di usare la nostra applicazione, ma in questo caso diventa un'applicazione, o il nostro sito web, anche quando è offline, oppure mi permette di creare un sito web, o un'applicazione web, che usa la geolocation, oppure, come ad esempio di prima, posso usare attività interattive, come il drag and drop, tutte cose che si possono considerare reeditate, dalle classiche applicazioni desktop, io in un'applicazione desktop, che so, scrivo il mio file, Word, prego un pulsante e lo salvo, prima dell'HTML5, questo era abbastanza complicato farlo, ora, ho delle API, JavaScript, che mi permettono, e dei database, diciamo così, o comunque, dei luoghi in cui memorizzare, le informazioni che magari voglio salvare, della mia navigazione, o della mia applicazione, che ovviamente dovrà essere organizzata, in modo tale da salvarmi, un dato, quando premo un pulsante, e ovviamente da lì in poi diventa appunto, codice, si utilizza JavaScript, per elaborare un'applicazione, che faccia, che sono un Word online, mettiamola così, visto che ho fatto il pagano di Word, un Word, creato con HTML, CSS, e JavaScript, drag and drop abbiamo visto, poi ci sono anche alcune, API di ulteriore livello, dal punto di vista della complessità, e ovviamente delle possibilità che offre, grazie al quale usiamo JavaScript, in maniera asincrona e parallela, accenneremo anche a questo, in seguito, quando arriveremo al modulino, alla giornata dedicata all'API, alle due giornate dedicate all'API direi, e poi, vabbè, comunicazione bidirezione, anche questo è un aspetto interessante, che ci permette appunto, di comunicare, con, far comunicare, la nostra web application, con appunto, un server remoto, in maniera più efficace, veloce, cosa che magari, anzi che, prima dell'HTML 5, anche questa era, da farsi, come dire, con altri strumenti, altre tecnologie, quindi al di fuori, dell'HTML, e del Javascript, e del CSS. Ok, direi che ho, spero di avervi dato una panoramica, interessante, spuzzicante, di quello che vedremo, nei prossimi incontri, ovviamente, dedicati a, semanticità, che ricopriamo con questo termine, dei nodi, nuovi nodi, HTML 5, e, API web application, appunto, che abbiamo visto, in quest'ultima schermata, che arricchiscono tantissimo, il vocabolario, gli strumenti, di HTML, CSS, in particolare, HTML, JavaScript, CSS, diciamo, diventa, da questo punto di vista, meno, meno, in queste, API, quindi, più HTML, più nodi, HTML, più codice, JavaScript, pronto, all'uso, che messi insieme, arricchiscono, quindi, le possibilità, di un documento, HTML, con appunto, scusate, un documento, HTML 5. Mi fermo qui, perché non abbiamo altre slide, perché l'ora è giunta, qui possiamo chiudere tutto, no, tutto no, perché sono connesso, alla piattaforma, chiudo questo, e, vediamo se ci sono, come al solito, domande. Ciao, prof, sono Ibra, e chi è Ibra? Ah, pensavo Ibra Imovic, ok, ho una grande passione per la programmazione, non sto imparando React.js, esiste un sito web in italiano, in cui posso leggere la documentazione dello sviluppo web, attualmente, la documentazione dello sviluppo web, cosa intendi? Cioè, tutto, tutto lo scibile della programmazione web, o solo quella su React, o solo quella su HTML, o su JavaScript, o su CSS, o su Angular, o su Vue, oramai è sterminato, spero di stare sul frontend, tra l'altro, è sterminata l'area, la quantità di tecnologie, Nod, aggiungo, di cui abbiamo fatto, tra l'altro, anche un webinar, cioè, c'è talmente tante tecnologie, a volte, che svolgono compiti diversi, a volte concorrenti, che contribuiscono, che ci mettono a disposizione, appunto, strumenti per creare, sviluppare web, che, non c'è di sicuro un sito in italiano, che parli di tutto, a meno che, come dire, uno non decida, che, io ho scritto per dati anni, su questo sito, su HTML.it, 30 anni fa, 20, lì trovate, appunto, le varie guide, in italiano, che trattano, uno per uno, i vari argomenti, che ci interessano, ci sarà sicuramente, una guida a React, o una guida, sicuramente, HTML, CSS, JavaScript, può darsi che non siano recentissime, ma, appunto, nel tuo caso, stai imparando, lì ci sono sicuramente, le basi, in italiano, divise, appunto, per tecnologia, JavaScript, HTML, CSS, Node, React, Angular, Vue, e altre tecnologie, che magari, ti possono interessare, quindi, l'unico sito, che più o meno, ha un po' di tutte, queste informazioni, di cui, se hai ricerca, potrebbe essere quella, un altro sito, che faccia tutto, le AGS, vai su, HTML.it, io poi, le AGS, me lo sono studiato in inglese, quindi, non so se nel frattempo, non c'era nulla, e anche Angular, per esempio, io Angular 2, me lo sono studiato in inglese, nel 2016, appena uscito, me lo sono studiato in inglese, poi, nel tempo, sono uscite guide, tutorial, anche libri, manuali, su Angular in italiano, ma io oramai, diciamo così, non è che sapevo già tutto in inglese, ma avevo già, elaborato le informazioni, che mi servivano a suo tempo, in inglese, e idem, con Reag.js, non so se esista qualcosa, di completo, su Reag.js in italiano, io oramai, oramai nel senso che, poiché sono un po' d'inglese, vado direttamente alla fonte, se c'è una documentazione di React, vado ufficiale, vado sul sito React, e lì, di sicuro, la Bibbia, diciamo così, tra virgolette, o comunque, è la documentazione scritta di prima mano, dai creatori di React, leggo in inglese, e me lo traduco mentalmente, o a volte prendo punti in italiano, idem per Angular, idem per, poi HTML, CSS, e JavaScript, oramai, avete tutto già in italiano, da anni e anni e anni. Poi abbiamo Giovanni, diciamo che la tendenza, Giovanni, la tendenza è quella, più aumentiamo il valore semantico, i dati, che arricchiscono di significato, i nostri documenti, e quindi, nell'insieme, dei nostri siti web, più, come dire, aumentiamo, poi è questo, quello che possiamo fare, aumentare, non c'è nessun mago del SIO, che se ne dica, chi si spaccia per mago SIO, è come chi si spaccia per coloro, i quali che, con una barretta di, qualche schifezza chimica, ci permettono di, di magrire, o sviluppare i muscoli, eccetera, eccetera. Non esiste nulla del genere, neanche in ambito SIO. L'unica cosa che si può fare, in ambito SIO è, mettere insieme, una serie di tecniche, tra cui, il microdata, o i tag semantici, che aumentano le possibilità, insieme a tanti altri fattori, che il nostro sito, venga indicizzato meglio, di altri siti, che non usano questi strumenti. Quanti tag H1, 2 o 3 puoi usare? Non so cosa significa. Io, in una pagina web, allora, storicamente, posso usare un unico, si poteva usare, un unico tag 1, ed è sotto, a cascata, appunto, nodi più piccoli, di dimensioni più piccoli, H2, H3, più, e in quel caso, si possono usare, più H2, più H3, eccetera, eccetera. Con l'HTMR5, in realtà, volendo, si possono usare, anche più H1, cosa che prima, era sconsigliata, ma insomma, è difficile, che serva più di un titolo, di livello principale, nel senso che, se io leggo un libro, o un giornale, c'è un titolo principale, H1, poi c'è il sottotitolo, H2, difficile che ho, due titoli, due titoli, a carattere cubitali, dello stesso articolo, ogni articolo, e torniamo, al tag article, di cui parlavamo prima, ogni articolo, aveva un suo titolo, e un suo sottotitolo, quindi, sebbene si possano, mettere più H1, è normale, metterne uno, F12, cos'è l'uso di F12? Giovanni, cosa intendi? Nelle prossime azioni, spieghi anche l'uso di F12, cos'è F12? Una combinazione di tasti? Intendi quella? Cioè l'ispettore del browser, Giovanni? se appena mi riesce a ridermi, se è quello, no, non lo vedremo, sente, no, quello lì no, quello è, lo vedremo magari sfuggita, perché mi servirà, mettere in evidenza qualcosa, ma, è uno strumento di sviluppo, soprattutto dedicato a JavaScript, noi non facciamo un webinar su JavaScript, facciamo un webinar su HTML, vedremo magari, nello strumento Inspector di sviluppo, la sezione dedicata all'HTML, in cui vediamo la struttura del documento, i tag semantici, eccetera, eccetera, ma di sicuro non facciamo JavaScript, quindi lo useremo rarissimamente, solo per sfizio, per darvi uno spunto, su dove magari cercare determinate informazioni. E guarda, Ibra, ripeto quello che hai detto prima, non c'è nulla di, non lo so, se c'è io non lo conosco, io vado avanti per la mia strada, vado sui siti originali, mi leggo il codice, la guida in JavaScript, in inglese, anche perché io devo essere costantemente aggiornato, sia perché sviluppo, sia perché faccio formazione, sia perché faccio, grazie a rete informatica, lavoro, faccio anche questi webinar, quindi io devo essere aggiornato, e se esce una nuova tecnologia domani, non ci sarà già uno che me l'ha tradotto in italiano, presumibilmente sarà una tecnologia anglosassene, la guida, la documentazione ufficiale sarà in inglese, se aspetto che mi arriva il traduttore in italiano, io perdo opportunità, anche solo di, come dire, intellettuali, dicendo di conoscere nuovi strumenti, o perdo magari l'opportunità di fare un corso sulla nuova tecnologia, un webinar sulla nuova tecnologia, mentre se non lo leggo in inglese, ovviamente sono immediatamente aggiornato, e posso andare avanti con la mia attività, o con le mie curiosità, o a togliermi delle curiosità, non è necessariamente che devo lucrare su quello che nasce di nuovo. Mi sembra di aver risolto tutte le domande, grazie a te Ibra, direi che abbiamo concluso. Maria Luce? Eccomi. No, volevo un attimo, cosa vedremo nel prossimo webinar di giovedì prossimo? Eh, nel prossimo webinar vedremo quello che ho messo nella slide, adesso me la sono già dimenticata, vedremo nella sequenza che abbiamo visto nel slide, quindi, primo step, valore, caratteristiche, diciamo così, semantiche, dei nuovi tag HTML, e presumo, vediamo un po' come vanno le cose, ma presumo che il prossimo sia dedicato a questo, alla semantica, diciamo così, per farla breve, gli ultimi due webinar saranno dedicati invece all'API, in cui metteremo insieme un po' di HTML e JavaScript, ma ripeto, sul JavaScript non andremo a forzare troppo la mano, perché, insomma, non è il webinar adatto a farlo, insomma, non è un webinar al JavaScript. Perfetto, allora, altre domande non ce ne sono, quindi io ringrazio tutti, ringrazio Ugo, io ringrazio tutti, ringrazio te, vi auguro una buona serata, ci vediamo giovedì prossimo, ricordatevi, o andate sul link della landing page per programmare tutte le vostre iscrizioni, o altrimenti riceverete la nostra consueta email, vi invito ai webinar. Vi saluto e vi ringrazio ancora, buona serata a tutti. Ciao Maria Alice, grazie a tutti, buona serata, ciao, alla prossima. Grazie a tutti, ciao, Grazie a tutti.